I non morti vivono! Come possono essere fermate le masse di non morti? Bruciali! Attirali! Blisky zombie distraggono i non morti! Oppure mandali all'altro mondo! Con l'acqua santa! Le munizioni scarseggiano! Raccogli parti del corpo dei non morti! Carica il tuo archibuccio e fargli esplodere per sempre! Red Dead Redemption. Undead Nightmare.